Venerdì 13 aprile 2018, 103esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dell'Ariete. La chiesa ricorda San Marzio. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Marzio. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Gabrielli. Deriva dal nome medievale Gabriello, che a sua volta proviene dal nome bizantino Gabrielius. È un cognome diffuso in tutta Italia, particolarmente nel centro nord. La forma Gabrielli, con una sola L, è concentrata invece nella fascia centro-meridionale tra Lazio, Abruzzi, Puglia e Calabria. La variante Gabrielle, piuttosto rara, è invece tipica del Veneto, nell'area trevigiana. Accadde oggi. Il 13 aprile del 1970 esplode un serbatoio di ossigeno a bordo dell'Apollo 13. È in quell'occasione che l'equipaggio lancia il famoso messaggio Houston, abbiamo un problema. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo l'inventore Antonio Meucci, nato a Firenze il 13 aprile 1808. La citazione da ricordare. Quando c'è di mezzo l'amore, di solito ci si inganna da tutte e due le parti. Giacomo Casanova, dice il saggio. Capelli lunghi, idee corte. Proverbio cinese. Un consiglio al giorno. Oggi volete preparare delle patate al forno croccantissime? Il trucco è di passarle nella farina prima di cuocerle. Vedrete che risultato! Oh my God!